Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un prossimo video, sono Mattia26 iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram mi lascio il link in descrizione qua sotto e l'obiettivo è raggiungere i 1000 iscritti anche se la vedo un po' dura però, pian piano ce la dovremo fare vi lascio il video, adios ok, allora, facciamo la borsa allora, lascio con mano pantalone da tuta jeans una maglietta seconda maglietta felpa un'altra felpa pile mele termica mele termica calzini un altro paio di calzini voilà ok un paio di scarpe e un giubbotto voilà tadaaa bene, allora, chiudiamo oh, siamo pronti e noi occhio Grazie a tutti. 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 Noi. 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 Grazie a tutti. Noi. 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 Noi.